Bruno Gröning. Io voglio solamente aiutare e guarire. La vita di Bruno Gröning. Per bambini, giovani e adulti. Non è un ciarlatano. Già ad Erford veniva posta sempre la stessa domanda. Bruno Gröning è veramente capace di qualcosa o è solamente un ciarlatano? Un imbroglione. Gli studi fatti su di lui ad Heidelberg avrebbero portato chiarezza. Così scrisse il professor Fischer dopo gli studi fatti su di lui in una preperizia che la rivista Review pubblicò. Bruno Gröning non è un ciarlatano, non è un ipnotizzatore e nemmeno un dottore dei miracoli, ma un dotato psicoterapeuta, medico dell'anima, non laureato. Egli si adopera attraverso la compassione motivata da un'innocente naturalezza e da una forte religiosità ad aiutare gli esseri umani. Così si trovò una risposta a quella domanda. Bruno Gröning non era un ciarlatano. Comunque nemmeno la spiegazione del professor Fischer sul fenomeno Gröning fu equa. Egli cercò di spiegare gli eventi riguardanti Bruno Gröning solamente dal suo punto di vista, quello psicoterapeutico. In questo modo non fu in grado però di cogliere la vera essenza, la vera natura dell'operato di Bruno Gröning. Non prese in considerazione il fattore determinante. Ciò che Bruno Gröning mise sempre in risalto e cioè che Dio è in assoluto il più grande medico ed è lui che in realtà opera le guarigioni. Di questo i medici non tennero conto. Niente collaborazione, niente perizia. Dopo l'analisi di tutti gli esiti, con la loro valutazione, si sarebbe dovuto formulare il giudizio finale su Bruno Gröning. Sarebbe stata quindi redatta la perizia medica. Gli era anche stato promesso che in questo modo gli sarebbe stato garantito definitivamente il via libera per continuare ad operare. Nel frattempo il professor Fischer ed il sostenitore di tutto il progetto, il professor von Weizsacher, fecero una proposta a Bruno Gröning. Gli offrirono di costruire una casa di cura nella quale avrebbe potuto operare a fianco dei medici. Della direzione e della scelta dei pazienti si sarebbero occupati loro stessi. Bruno Gröning non avrebbe però avuto la possibilità di intervenire o di decidere. Inoltre, avrebbe dovuto far fronte a degli impegni finanziari. Egli scrisse così circa la proposta offerta agli. Le condizioni, sia finanziarie che di altra natura, fatte mi in questo contesto dal signor professor F., erano così formulate da non poter essere accettate da me. Naturalmente vennero fatte molte promesse in proposito, anche con signori che avrebbero voluto finanziare questa opera. Io non potevo dichiararmi d'accordo con le proposte del signor professor F., e per questo le rifiutai, poiché io non avevo a disposizione nemmeno un centesimo, e perciò non avrei potuto impegnarmi in accordi finanziari che non avrei potuto sostenere. Mai mi era venuto in mente di trarre profitto da questo progetto. Per questo il tutto fu per me una richiesta impossibile. Inoltre, io volevo solamente realizzare ciò che mi era stato donato per vocazione, aiutare i bisognosi, e mettermi a disposizione sia dei medici che degli psicoterapeuti. Ma mai avrei pensato di combinare degli affari da tutta questa faccenda. Allorché le cose non andarono in porto, i signori professori perdettero ogni interesse per Bruno Gröning. La perizia promessa non venne mai scritta, e invece di dargli la possibilità di operare liberamente, gli misero altri bastoni tra le ruote. Nella tensione, durante le prove sostenute da Bruno Gröning, nella clinica di Heidelberg, furono adoperate espressioni mediche per descrivere il suo operare. Si parlò di pazienti, metodi di cura, eccetera. Descrivendo così l'operare di Bruno Gröning come fosse un'attività medica. Questo, più tardi, lo danneggiò molto. Quinto capitolo Conclusosi l'esame ad Heidelberg nell'agosto del 1949, Bruno Gröning partì per il sud della Germania. Voleva scampare al tumulto che si era creato intorno alla sua persona. Il proprietario di un allevamento di cavalli nei pressi di Rosenheim lo invitò nella sua fattoria. Qui Bruno Gröning avrebbe voluto esaminare in tutta tranquillità la proposta di allestire delle case di cura. All'inizio riuscì a mantenere segreto il suo soggiorno. Al Traberhof, fattoria del trotto, regnava una pace meravigliosa. Ma ben presto corsero in giro delle voci. Si diceva che Bruno Gröning si trovasse in Baviera. I giornalisti si misero alla sua ricerca. Vennero persino messe delle taglie. Chi troverà Gröning per primo? Chi lo intervisterà per primo? Gröning in Baviera. Non passò molto tempo che lo rintracciarono. I giornali ne diedero notizia. Gröning è arrivato in Baviera, scrissero. Gröning è a Rosenheim. Gröning si trova al Traberhof. Immediatamente accorse tutta insieme una moltitudine di bisognosi di aiuto. Ma questa volta la situazione non fu più contenibile. Gli argini cedettero. Si insediò una vera marea di gente. Se ad Erfurt c'erano al massimo dalle 5.000 alle 7.000 persone o ce n'erano almeno 10.000. Certi giorni al Traberhof aspettavano anche più di 30.000 persone che lo volevano vedere e che volevano essere guariti da lui. I giornali ne diedero notizia. Le radio e i telegiornali mandarono i loro reporter. Fu girato persino un film che doveva documentare gli straordinari eventi dell'uomo di Danzica e che effettivamente, alcune settimane più tardi, venne proiettato nei cinematografi. Accadevano scene drammatiche. Succedeva l'incredibile. Uno dei molti giornali che diedero notizia del Traberhof fu il Zeitungsblitz. Così scrisse nel settembre del 1949. Nel frattempo si erano radunate più di 10.000 persone che da ore sotto un sole cocente aspettavano il grande momento in cui Gröning sarebbe apparso al balcone, avrebbe parlato alla folla ed emanato la sua forza guaritrice. Le persone erano strette l'una vicinissima all'altra per ricevere ed assaporare le sue energie benefiche. Subito incominciarono a verificarsi delle reazioni fra gli infermi più gravi seduti sulle loro sedie a rotelle o su delle poltrone ed anche fra i singoli che si trovavano ai margini della folla. Ed ecco di nuovo persone semiceche che riacquistano la vista. Altre semiparalizzate si alzano ed i paralitici incominciano a muovere i loro arti ormai irrigiditi. Centinaia di altre persone raccontano dell'acutizzazione dei loro dolori nelle parti ammalate dei loro corpi di stiramenti, fitte e formicolii, di sensazioni di incredibile leggerezza o di mal di testa improvvisamente scomparsi. Un esercito disperato. Un giornalista che trascorse più giorni al Traverhoff una volta descrisse così lo scenario che dal balcone gli si offriva alla vista. Se quando mi trovo al balcone lascio scivolare il mio sguardo sulla folla allora mi pare come di avere un'immagine fedele di tutte le cliniche tedesche e di tutte le enciclopedie mediche dispiegate davanti a me nelle quali sono rappresentati tutti i tipi e stadi di malattia. Ciechi, zoppi, sordi, semi o completi paralitici, mutilati, persone ammalate di TBC e di cancro, epilettici, neonati e bambini, giovani donne ed altri per i quali la vita sta volgendo alla fine, vecchietti tremolanti e donnette consumate ed avvizzite. Un altro giornalista scrisse persino un libro intero sugli avvenimenti del Traverhoff. Lo intitolò E il grande cambiamento. Anche lui descrisse questo esercito disperato che si stringeva intorno a Bruno Gröning. Tutte le malattie e le ferite che ci si può immaginare, tutti i tipi di devastazione spirituale, di cupangoscia, che venivano timidamente nascoste all'indifferenza di curiosi in casa, qui diventavano inesorabilmente ed inevitabilmente visibili. Donne e bambini, con facce pallide e consumate, dalle quali fiammeggiavano occhi estruggenti e straziati, che avevano persino disimparato il pianto, mutilati e paralitici, incapaci anche di un solo movimento, persone scosse da orribili convulsioni nervose, dai cui volti smunti scendeva la bava, altri con spasmi da pianto irrefrenabile. Così si erano radunati là, così erano stati trasportati, a migliaia e migliaia, senza fine. Ciò che era stato presente in loro, come forza creativa e vitalità, come gioia e fiducia, era tutto rimasto calpestato dietro i fili spinati della prigionia, sepolto sotto le macerie di case distrutte, rimasto là, nella perduta patria. In questi giorni e settimane non ho mai incontrato nessuno che non fosse stato colpito, impressionato e commosso da questa enormità di pena, disperazione e miseria, che nessuno avrebbe mai potuto così spaventosamente immaginare. A chi poi avesse voluto ancora dare un'occhiata alle innumerevoli lettere, imploranti aiuto, di persone che lamentavano le proprie pene, ma per motivi di salute o d'economici non avevano avuto la possibilità di venire personalmente da Bruno Gröning, a questi sarebbe stato chiaro che strette l'una vicino all'altra per giorni e giorni interi, queste persone, proprio qui, avevano riposto le loro ultime speranze ed erano solamente una parte rappresentativa di una massa infinita di ammalati, invalidi e disperati. Le guarigioni. Si trattava veramente di un'armata disperata che si stringeva intorno a Bruno Gröning, migliaia di persone alle quali nessuno più poteva portare aiuto, che non conoscevano altre vie di uscita dalle loro pene e dalla loro miseria. Poi avvenne ciò che non avrebbe potuto, ciò che non sarebbe dovuto succedere, almeno non secondo le conoscenze della scienza moderna e nemmeno secondo le conoscenze della filosofia. Ma Bruno Gröning non era un filosofo e nemmeno un uomo di scienza. Bruno Gröning parlava di Dio e Dio agì. Dio si manifestò negli avvenimenti successi al Traberhof e in tutta la sua magnificenza e in tutto il suo splendore, in tutta la sua onnipotenza, in tutta la sua forza e bontà. Avvennero innumerevoli guarigioni. Perfino quando Bruno Gröning non era presente, gli ammalati guarirono. Così scrisse un osservatore. Erano i giorni e le notti precedenti la grande guarigione del settembre. Lo stesso Gröning era in viaggio nel nord della Germania allorché, fra gli astanti, avvennero le prime guarigioni a distanza. Avvolti da questa impressione affascinante di tali avvenimenti, si creò intorno agli ammalati lentamente un cambiamento. Davanti ai loro occhi c'era in azione una forza per la quale non esisteva nessuna spiegazione umana e questa forza portò aiuto laddove l'aiuto umano non era stato più possibile. Quando poi Bruno Gröning si affacciava al balcone del Traberhof e parlava agli infermi, fra le migliaia di bisognosi di aiuto succedevano delle scene che non si riuscivano a spiegare. Infermi si alzavano dalle lettighe, paralizzati, gettavano via le loro stampelle e potevano camminare. Un bambino cieco riacquistò la vista. Grida di ringraziamento annunciavano sempre nuove guarigioni delle quali solamente una parte erano visibili esteriormente. Ancora due mesi più tardi ed anche molto tempo dopo si veniva ancora sempre a conoscenza di nuove guarigioni che ebbero luogo o incominciarono in questi giorni. Sul terrazzo del Traberhof si trovava il miglior testimone oculare di questi avvenimenti che si sarebbe potuto avere per l'appunto un medico. Riconobbe con profonda commozione e accolse nella sua vita come frutto di questi accadimenti il credo che l'uomo non è nulla senza la misericordia divina e che nessuna conoscenza e potere umano può guarire se non si dimostra umile di fronte al valore della misericordia. Il più grande medico è il nostro Signore Dio. Esattamente come ad Hereford Bruno Gröning non si trovava sempre permanentemente al Traberhof viaggiava molto per esempio con il team del film che girava un documentario su di lui. Così succedeva che i bisognosi di aiuto qualche volta lo dovessero aspettare anche per alcuni giorni e lo facevano. Un giornalista descrisse come Bruno Gröning poi parlasse alla folla in attesa. Quando Bruno Gröning dopo alcuni giorni si ripresentò ad una folla numerosa di circa 8-10 mila persone prima di ripartire per Brema parlò brevemente e fece loro le seguenti domande. Avete pazienza? In coro Sì! Avete fiducia in me? Di nuovo si levò quel Sì! Avete e manterrete la fede nel nostro Signore Dio? Per la terza volta il coro dei seguaci di Gröning rispose con un Sì! E con ciò voglio accomiatarmi da voi nel nome di Dio. In quel preciso istante si innalzarono verso di noi che stavamo sulla veranda le grida di un uomo che fino a qualche minuto prima lottava per respirare sono guarito avevo l'asma ti ringrazio Gröning poi continuò a parlare Gröning il donatore di salute. Mie cari non pensate più alle vostre malattie mandatele via e concentratevi completamente su ciò che sentite nei vostri corpi e già succede quello che per ogni singolo deve succedere quello che ha guadagnato e che si augura il vostro cuore il vostro corpo e la vostra anima devono essere puri allora potrà entrare Dio laddove finora c'era Satana allora potrò aiutarvi tutti alla fin fine siete tutti figli di Dio il più grande medico è e rimane il nostro Signore Dio dappertutto lo stesso scenario nel 1949 ovunque Bruno Gröning comparisse in brevissimo tempo affluivano decine centinaia migliaia di persone il nome di Gröning elettrizzava e metteva in moto le masse della visita di Gröning a Monaco nel settembre del 1949 un giornalista scrisse alle ore 19 nella Sonnenstrasse c'erano migliaia di persone alle ore 23 e 30 erano ancora là in cinque anni di guerra avevo visto molto ma mai fui così scosso come nelle quattro ore che stetti seduto davanti a Bruno Gröning durante le quali vidi sfilare una raccapricciante marea di miseria e dolore epilettici ciechi e paralitici sulle stampelle si stringevano intorno a lui madri porgevano a Gröning i loro figlioletti paralizzati ci furono svenimenti si alzarono grida implorazioni d'aiuto preghiere richieste sospiri infermi paralitici ciechi muti dappertutto lo stesso scenario Bruno Gröning non era una pop star che radunava attorno a sé i suoi fan da lui andavano i più poveri tra i poveri gli ammalati gli abbandonati a sé stessi i disperati e quelli che non avevano più nessuna possibilità coloro che nessuno era più in grado di aiutare egli li accoglieva e spiegava loro che Dio era il più grande medico e che Dio può aiutare anche quando gli uomini non ne sono più in grado e succedeva lo straordinario gli ammalati ritrovavano la speranza riacquistavano la fede la fiducia la convinzione religiosa e molti riacquistavano la salute gli infermi si rialzavano dalle lettighe i paralitici potevano di nuovo camminare i ciechi potevano vedere e i muti parlare nuovamente una testimone del tempo una signora che si trovava al Traberhof racconta di ciò di cui lei fu testimone c'erano almeno dalle 10 alle 20.000 persone in questo allevamento di cavalli ma Groenny non si vedeva così aspettammo per delle ore la folla non era esterica le persone credevano e speravano nella guarigione era impressionante vedere le persone che giacevano su delle assi o si muovevano con delle stampelle storpi paralitici feriti di guerra una vista insopportabile e tutti avevano lo stesso desiderio io voglio guarire poi venne Groenny andò sul balcone e parlò alla folla attraverso il microfono disse che dovevamo prestare attenzione al nostro corpo se avessimo sentito formicolì o una sorta di corrente elettrica questo avrebbe significato la guarigione io sentì una corrente elettrica una vibrazione un formicolì o in tutto il corpo solo dopo osservai anche il corpo delle altre persone tremavano e si scuotevano succedeva automaticamente come se si dovessero staccare le membra non ci avrei creduto se non lo avessi visto con i miei stessi occhi poi alcuni gridarono non ho più bisogno del bastone io posso nuovamente vedere eccetera eccetera allora camminai tra la folla cosa che era molto ma molto difficile poiché eravamo tutti stretti pigiati l'uno all'altro ma volevo vedere che cosa stesse succedendo e chi stesse gridando subito dopo alcuni della croce rossa trasportarono un uomo che giaceva su delle assi piuttosto primitive e che era paralitico costui alzò le mani e con l'aiuto dei barellieri della croce rossa lentamente si alzò il sudore gli grondava dalla fronte alla mia domanda rispose che era un invalido di guerra poi si alzò dopo vide un uomo piangere aveva costruito un rudimentale carretto con delle assi per il suo nipotino di otto anni il ragazzo non poteva camminare e così era stato in giro tutto il giorno con il nipote domandai a quell'uomo perché piangesse e lui mi rispose che suo nipote poteva di nuovo camminare e aveva paura di ritornare a casa perché sua figlia rivedendolo avrebbe avuto un infarto poi vide una giovane ed elegante donna zingara mettersi in ginocchio ed anche a lei rivolsi la parola mi raccontò come avesse sempre avuto le mani irrigidite e come allora fossero tornate di nuovo sciolte continuava a ringraziare incontrai molte persone che erano state guarite un uomo saltò oltre la staccionata e gli dissi ma lei qui si trova nel posto sbagliato allora che lui mi rispose che solo cinque giorni prima girava con le stampelle e mi fece vedere la sua tessera da invalido di guerra che mi diede la conferma della sua invalidità al cento per cento il tumulto della stampa e gli affaristi a differenza di Hereford qui le autorità si tennero lontane lo stesso presidente del consiglio dei ministri fece delle dichiarazioni positive sul conto di Bruno Gröning dicendo che una personalità così brillante e straordinaria come la sua non si sarebbe dovuta perdere a causa dei paragrafi di una legge però anche gli avvenimenti di El Traberhof ebbero la loro parte oscura più gente arrivava e più la situazione diventava spiacevole i giornali stamparono edizioni straordinarie dando sempre più notizie grossolane spinti sempre più dall'ingordigia del profitto e dal desiderio di sensazionalismo a loro non interessava aiutare gli infermi o appoggiare Bruno Gröning a loro interessava solamente vendere più copie per guadagnare più denaro attraverso il nome di Bruno Gröning alcuni erano persino disposti a diffondere menzogne o storie inventate sul conto di Bruno Gröning metterlo in cattiva luce ed infangare il suo nome arrivarono al Traberhof anche molti affaristi fecero di tutto per spillare denaro agli astanti approfittando della loro indigenza alcuni vendevano foto di Bruno Gröning altri posti a sedere per chi era molto stanco o cibo e bevande per gli affamati altri asserivano di conoscere Bruno Gröning o i suoi collaboratori e di poter portare gli infermi da lui naturalmente in cambio di denaro infine la situazione degenerò in realtà Bruno Gröning era arrivato al Traberhof per scampare al tumulto intorno alla sua figura ma adesso era ancora peggio di prima sebbene al Traberhof avvenissero straordinarie guarigioni di massa fino ad allora non conosciute il caos tutto attorno prese purtroppo delle pieghe pericolose Bruno Gröning dovette allontanarsi dal Traberhof grazie a tutti Grazie a tutti.